Il signor ASMR Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti o bentornati sul mio canale Il signor ASMR Come state? Spero benissimo, spero benissimo Oggi voglio raccontarvi la vera storia di San Valentino Ma prima di iniziare con il racconto volevo chiedervi di mettere un bel mi piace al video Per farmi capire che vi piace e di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto Cominciamo subito nei giorni Intorno alla metà di febbraio nell'antica Roma E rosanza celebrare in Lupergaglia Feste di radici arcaica legata al ciclo di morte e rinascita della natura Alla sovversione delle regole e alla distruzione dell'ordine Per mettere al mondo la società di purificarsi e rinascere Se vi ricordate, se avete visto Lupergaglia Si vedeva anche nella serie Sabrina, vita da strega su Netflix In un episodio dove appunto le streghe e i stregoni Celebravano in Lupergaglia E da erano dei rituali un po' così controversi Non proprio cristiani Un po' controversi Un po' spinti oltre il limite Queste feste erano accompagnate da vari rituali Mascherate, cortei E giornate in cui i servi prendevano il posto dei padroni E viceversa Appunto con l'intento di innescare Un processo di rinascita Rimettendo intanto il caos primigenio E appunto parte di queste manifestazioni ritualistiche E sopravvissuta fino ad oggi Mediata dalla morale cristiana Nelle tradizioni del carnevale Per l'appunto il carnevale le mascherate Il sovvertire le posizioni di potere Per fare un esempio stupido Anche nel film Disney del corpo di Notre Dame Quando lui scende Durante la festa della mascherata Viene preso e viene acclamato Come fosse un re Dopo dopo va a finire come sappiamo Però appunto questa sovversione delle regole Tutto vale appunto A carnevale tutto vale In particolar modo Alcune pratiche arcaiche della fertilità Prevedevano che le donne di Roma Si sottoponessero in mezzo alle strade Ai colpi vibrati da gruppi di giovani uomini nudi Armati di fascine di rami Strette da spacchi Attraverso le frustate di questi uomini E regrediti alla condizione ancestrale E divina della sessualità libera Impersonata dal dio A creste fauno luperco Le donne ricevevano una benedizione Che ne propiziava la fertilità Questi riti di natura ancestrale Legati alla sfera più antica E primordiale della sessualità umana Furono definiti appunto deplorevoli Già nel tardo impero romano E furono definitivamente abbandonate E bandite dai papi cristiani In particolare Sembra che fu il papa Celasio I A istituire nel sul ceppo regiso Dei lupercali Una festività di cattalamore In questo caso romantico E privo di riferimenti espliciti Dalle sessualità Ma nel solco della tradizione biblica Comunque fertile e fruttuoso Finalizzato Finalizzato La riproduzione Associandola Idealmente Alla protezione Del santo Valentino E da qui appunto San Valentino Era Al contrario dei lupercali Una festività Più cristiana Meno esplicita Meno spinta Non era spinta Al limite Come i lupercali Che erano proprio Era un rito Molto Sessualizzato Sebbene la figura Di San Valentino Sia nota anche per il messaggio D'amore portato A questo santo L'associazione Specifica Con l'amore romantico E gli innamorati E' quasi certamente posteriore E la questione La sua origine E' controversa E' conosciuta in ogni caso La leggenda Secondo cui il santo Avrebbe donato Una fanciulla povera Una fanciulla povera Una somma di denaro Necessaria Come dota Per il suo Sposalizio Che senza di questa Non si sarebbe potuto Celebrare Esponendo La ragazza Priva di mezzi E di Altro sostegno A rischio Della perdizione Il generoso Dono Frutto di amore Frutto 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 di amore Finalizzato all'amore Avrebbe dunque Creato la tradizione Di considerare Il santo Vesco Valentino Come il protettore Degli innamorati Il protettore Il protettore 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 Degli innamorati Una delle teli più note Che l'interpretazione Del giorno di San Valentino Come festa Degli innamorati Si debba ricondurre Al circolo Scusate la pronuncia Che non conosco C'è Geoffrey Chaucer Che nel parlamento Degli uccelli Associa la ricorrenza Al fidanzamento Di Riccardo II D'Inghilterra Cononati Il bohemia Tuttavia Studiosi come Henry Kelly E altri hanno ammesso In dubbio Questa interpretazione In particolare Il fidanzamento Di Riccardo II Sarebbe da collocare Al 3 maggio Giorno dedicato A un altro santo Omonimo Del martire San Valentino Di Genova Può rimanendo Incerta L'evoluzione storica Della ricorrenza Ci sono alcuni Riferimenti storici I quali fanno ritenere Che la giornata Di San Valentino Fosse indicata Agli innamorati Già dai primi secoli Del secondo millennio Tra questi c'è la fondazione Parigi Il 14 febbraio Del 1400 Dell'alto tribunale Dell'amore Un'istituzione Ispirata ai principi Del mor cortese Il tribunale Aveva lo scopo Di gite su controversi Legate ai contratti D'amore E ai trattimenti E della violenza Contro le donne I giudici Venivano selezionate In base alla loro Familiarità Con la poesia D'amore La più antica Valentina Di cui si è rimasta Traccia E Traccia risale Al quindicesimo secolo E scritta da Carlo Torleans Torleans Scusate la pronuncia Mi dispiace Se sbaglio La pronuncia All'epoca Detenuto nella torre di Londra Dopo la sconfitta La battaglia di Agincorno Del 1415 Carlo si svolge A sua moglie La seconda Bon Di Armagnac Con le parole Je suis Déjà D'amour Tranné Scusate il mio francese Schifoso ma non lo conosco Ma tres Dolce Valentin Sono già malato d'amore Mia dolcissima Valentina Successivamente Nell'amleto di Shakespeare Del 1601 Durante la scena Della pazzia di Ophelia Scena quinta Dell'atto quarto La fanciulla Canta vaneggiando Domani San Valentino È appena Sul far del giorno Io che son fanciulla Buserò alla sua finestra Voglio essere La sua Valentina Inoltre Alla metà di febbraio Si riscontrano I primi segni Di risveglio Della natura Nel medioevo Soprattutto in Francia E Inghilterra Si riteneva Che in quella data Cominciasse l'accoppiamento Degli uccelli Per quindi L'evento Si prestava A essere considerato La festa Degli innamorati Comunque Secondo la leggenda San Valentino Viene arrestato Sotto l'imperatore Aureliano Mentre la sua popolarità Aumentava In tutto l'impero Catturato dai soldati romani Che lo conducono Lontano dalla città Subisce il martirio E la decapitazione Per opera Del soldato Furius Placidus Secondo gli ordini Dell'imperatore Aureliano Il suo corpo Viene seppellito A Terni Nel luogo Dove nel corso Del quarto secolo E poi stata costruita La basilica A lui dedicata E dove attualmente Sono custodite Le sue reliquie Comunque Questo diciamo Che È la storia Di come nasce Questa festività Quindi È una festività Creata Per Sostituire Diciamo I lupergali Che erano Appunto Una festività Poco cristiana Dato la loro E La loro esplicita Dimostrazione Di Di sessualità Eccetera E appunto Ci sono comunque Vari Valentini Nella storia Nel senso Vari santi Con lo stesso nome Ci sono un po' di Ci sono delle leggende Ci sono Insomma È un po' così È un po' una storia Un po' complicata Tra virgolette Vabbè Comunque Spero che il video Vi sia piaciuto Io voglio Augurarvi Augurare un po' San Valentino Però voglio anche Augurare un po' San Valentino Sia alle coppie Insomma Che passiate un bel San Valentino Un buon San Valentino Insieme Ma voglio dedicare Questo video Anche alle persone Che sono Single Che sono da sole Mi raccomando Non disprezzate San Valentino Approfittate Perché Nella vita È importante Anche Saper A star da soli È molto importante Saper stare Da soli Perché conosco Tanta gente Che Non riesce A stare Da sola E quindi Ha sempre bisogno Di avere qualcuno Al proprio fianco Però Così si rischia Diciamo Di Sciuppare Il rapporto Con l'altra persona Perché stare da soli Imparare a stare da soli Significa anche Imparare Ad apprezzare Se stessi Ed è una cosa Fondamentale Per Apprezzare Se stessi Saper stare Con se stessi Per Aver moto Di Saper stare Anche con gli altri Per avere un rapporto Un rapporto Con gli altri Sano Che porti Che porti Qualcosa All'altra persona Più che a privare No Quindi per avere Un rapporto sano Secondo me È basilare Saper stare bene Con se stessi Anche da soli Avere una propria Una propria Indipendenza Emotiva Quindi Dedico questa festa Sia A voi coppie Ma anche Ai single Comunque il video Si conclude qui Spero che vi sia piaciuto Noi ci vediamo Ad un prossimo video Io vi auguro Un buon relax O una buona notte Un saluto Dal signor A F M R Ciao Viagra 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 Viagra